La picchiaia è una carogna, ma già fatta vecchia, chi ci possa fare? Ha già ringraziato il pataterno, se stonga ancora qua. Quando dei fatti vecchia si tiene qualcosa di sorda, ti riesce a supportare. Ma se non tiene niente, ti vanno a chiedere, se hanno il milleggiatore, ti ignorano rin da quattro mura. Se può non essere autosufficiente, non ti rimane o resti niente. E ogni mese, pura pensione, si vanno a prendere. Non parliamo di rin da quattro mura, la sera rin da quattro mura, ma che sarà un appuntamento. Quando vai al dottore, tu guardi Stuart e si metti a sbraità. Ma voi non potete stare qua, ma voi volete mettere in capo che questa è la vita che ti fa. Mettetevi la sopposta e chiedetevi qui. Voglio, se andate a me, mangiate tutto quello che ti è rimasto. Poi pigliate la cacciolella per quattro mura. E piano piano, abbiate rin da a fossa. Che se non tieni sorda per t'atterrà. Rin dall'ossuario, ti vanno a chiedere. Volevi stare a per i luoggi, roba che sono morta. Poi asciuttare le lacrime sprecate e per bruciare la coppa così da una maniata e scornacchiata. Grazie. 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 Grazie.